5 bidoni della Lazio, Gaetz came indieta con la sua classe sconfinata riuscì a portare il Valencia in finale di Champions, passò alla Lazio per 90 miliardi di lire per sostituire Nedved e Verón. Viene ricordato come il flop più costoso non solo della Lazio ma del calcio in generale e passerà al Barcellona a fine stagione. Tefen Makinwa, acquistato nel 2006 per 3 milioni, il nigeriano era fortemente voluto da Dele Rossi, totalizzerà 44 presenze e soli 3 gol, un po' poco per un attaccante. Jean-Pablo Carrizo, 8 milioni per lui all'esordio, subisce 4 gol dal Cagliari e già a gennaio perde il posto di dollare perché arriverà a Muslera. Cristian Manfredini, acquistato dalla Lazio di Roberto Mancini, non riuscirà mai a impressionare la piazza bianco celeste e verrà mandato in presto alla Fiorentina e poi al Perugia, è ricordato per aver segnato con una parte particolare del compo. Gael Kakuta, prelevato dal Chelsea nel 2014 e uno degli acquisti più inuditi nella storia della Lazio con una sola presenza, è ricordato già per il suo talento nelle amichevoli nel mandare il pallone in tribuna. Seguimi per altri contenuti simili.